Come dicevi il nostro compaisano, questo matrimonio non sa di niente, non sa da fare, non sa di niente, non sa da fare, ma la c'è a fare a me, la c'è a fare, si però dobbiamo essere precisi e concisi con le nostre signori, specialmente come amiche, ma bisogna dire solamente una cosa, un'unica cosa, il matrimonio è finito, ma complimenti, bravo, questo, ma come ha fatto, la palla da abbiardo, ma che t'hanno fregato il numero, lasci tu, vedi che t'hanno trovato, ma chi è st'animato, ma che è, ma è amico mio, poi i romani si salutano così, quanto mi piace, oh, mi piace proprio tanto, tanto, ma che sei venuto a fare qua? Come che sto a me a fare, tacci, tu, mi hanno invitato il matrimonio tutto via, mi chiedi che sto a fare, oh, ma a proposito, ma se magna, si, perché mi madre mi vede per i tu, ma certo che se magna, ammazza quanto mi piace vederlo qua, me fa piacere, sono proprio contento, si, ti posso dire una cosa, a lei vede dai palla, si, ecco, delicatissimo, mi sono un piacere, ciao, ciao.